This is you and I, there is no one in the room Allora ragazze, oggi, vabbè, con la mascherina mi si spossa tutto però Andiamo a fare una bella bio con Volite che è uno proprio migliore Questo è il top del top Ecco, con Ricky Perché io, da quando sono qui Beh, allora, devo dire che questa domanda è abbastanza strana No, per ora no, però appena trovo la casa nuova, se vuoi venire, c'è un problema No Allora ragazze, io ieri mi sono sbagliata Quello che ho fatto io non è il micro nirli ma è il nano removal che lo fa Giordi Lo fanno, lui è un master, insegna anche, quindi Poi lo fanno anche tante delle sue ragazze in tutta Italia Cioè, veramente tutto il mondo Guarda, tuttora ho persone che non ci credono All'inizio, io anni fa, dicevo, vabbè, speriamo che un giorno mi scendano Per l'età, così ci credono poi Adesso, sinceramente, spero che mi scendano il più tardi possibile Allora, quelle scarpe sono di Valentino C'erano anche da uomo E c'erano anche in colore giallo fluo Però a me piacerò vedere le bianche Allora ragazzi, oggi sono qua nel centro di Roberta Che ha tantissimi trattamenti Oggi andiamo a fare il four shape Che è questo macchinario qui Eccola Roby Andiamo a farlo per rassodare Per drenare E insomma, per combattere un po' gli inestetismi È un trattamento indolore Quindi state proprio tranquille che non vi crea nessun male E vi faccio un po' vedere Questo è quello con il pomodorino giallo Quella che c'è a casa c'è C'è anche